Grazie alla tecnologia informatica per le persone con deficit uditivo sarà più semplice accedere alle strutture sanitarie. Grazie al progetto denominato Accessordi saranno messi a disposizione nelle strutture sanitarie pubbliche dei tablet per facilitare l'accesso ai servizi sanitari. Parte un progetto importante in collaborazione con l'ente nazionale Sordomudi per permettere alle persone audiolesi o comunque con problemi di ipoacusia di poter accedere a servizi importanti a cominciare da quelli sanitari con una piena assistenza. Saranno formate decine di soggetti che potranno attraverso la lingua dei segni in particolare permettere a questi soggetti di poter accedere con maggiore facilità e con parità di diritti rispetto alle persone normodotate a servizi essenziali per la loro salute e per la loro in piena integrazione nella vita civile. È stato fatto un bando bellissimo, questo è il primo passo per aiutare la comunicazione per le persone sorde per affrontare questa disabilità, quindi qualcosa che aiuterà in qualsiasi servizio sanitario o ospedaliero. Questo progetto ha l'obiettivo di garantire l'accessibilità, l'abbattimento delle barriere e superare facilmente la comunicazione con questo servizio di video interpretariato. Ci sarà quindi la possibilità di avere un interprete della traduzione. A volte anche questo servizio sarà per le persone anziane oppure sordoceche, ci sarà un interprete in presenza in questo caso oppure a distanza online. Questo servizio potrà garantire questa accessibilità per tutti i sordi. Un progetto importantissimo, volto all'inclusione sociale, all'indipendenza delle persone in collaborazione con l'ENSE, l'ente nazionale sordi italiano. Abbiamo sviluppato una progettualità come Regione Abruzzo che renderemo la vita delle persone più autonoma attraverso l'utilizzo anche della tecnologia negli ospedali, nei punti di accesso di tutta la Regione Abruzzo degli ospedali, in particolare i CUP e i pronto soccorsi. Immaginati le persone debbono essere più accompagnate, poi faremo dei corsi di formazione al personale interessato interno della parte ospedaliera, rivolto alla formazione della LIS e della LIFT. Questo progetto nasce da una collaborazione fattiva vera tra l'ente, l'assessorato regionale delle politiche sociali e l'ENSE. Grazie. Grazie. Grazie.